Che cosa? Come ti ha lasciato? Sì, ha detto che si deve trasferire. Oh mamma mia, povero. Sono sicuro che troverai qualche nuova ragazza qui in giro. Oppure ti potresti rimettere con Argentina. Dai, non essere giù di morare, lo so. Ok, fate la scelta giusta. Ebbene, fatti scoprire, ok? Drin! Dai, ero ad andare a casa. Vieni, vieni, arrivo. Ciao amico, domani. Ciao. Devi mettermi con Argentina. A casa? Ciao mamma, andate di sopra, adesso porto il pranzo. Ok, vado a levarmi le mani. Io arrivo subito mamma e devo solo posare la cartella e togliergli i libri. Ma certo, va pure. Chiuso la chiave. Bene, ora che ho lasciato Alex, Argentina non esisterà più. Proprio non lo userò mai. Tanto so che la pettinatrice non lo dirà a nessuno. Ma chi me lo dice? Bene, adesso porterò via i miei vestiti e poi non esisterà più. Però devo metterla in un posto dove nessuno lo troverà mai. In camera mia, lì mamma pulisce, sotto il letto pulisce anche. In quegli armadi non è sicuro. Tutte le piastrelle vanno lì sopra. Forse potrei metterla nel mio scompartimento segreto. Sì. Bene. Prendo, prendo la barrucca e il resto. Argentina, allora vieni. È pronto il pranzo? Sì, arrivo. Sì, ma sbaglio o il muro si era aperto? No, 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 ma che dici, no? È solo chi le cera un buchino e l'ho coperto con la carta pesta. Dai, forse andiamo a mangiare. Ho una fame. Forse dopo pranzo sarà meglio controllare. Sì, arrivo. Dopo i compiti... Ah, finalmente ho finito. Ehi mamma, io vado a fare una passeggiata al parco. Va bene. In realtà, vado dalla pettina a te. Oh, salve, ti vuoi fare una conciatura? Però direi... No, 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 non devo. Volevo solo dirti... Sai che mi hai fatto quel cambio look? Quei capelli rossi, gialli, quel vestito rosso. Sì, e allora? Beh, ecco, vorrei che non lo dicessi a nessuno della città. Alla tua famiglia, alla scuola, ai tuoi amici adulti. A nessuno. Questa cosa è tra noi due, ok? Ti prego, se vuoi ti pago. Ok. Quanto vuoi? 20 euro bastano. Ah, va bene. Grazie. Anche se non capisco perché è un buon look, però come vuoi. Ciao. Ciao. Dirin dirin. Ah, avrò fatto... Mi rimarranno anche solo 4 euro, ma devo farlo per forza. E per la mia reputazione per Alex. E poi perché ci tengo tanto a tornarci? Sì, io lo amo ancora. Ah, fare un modo di tornarci. Mmm, allora, ma è vero che è nata al parco, però non capisco dopo. E poi vuole tornare con Alex. Potrei aiutarla. Mmm. Quasi quasi vado ancora a prendermi un gelato alla pasticceria. Sì, va. Prenderò anche quello a pistacchio per Danny. Bene. E ora vado a casa a vedere quello scompartimento. Ehi, sei argentina? No, sono Danny. Ma quando torna? Non lo so, non so neanche dove è andata. Oh, mi ha detto che andava al parco. Oh, beh, fa niente. Devo farmi un bagno caldo, eh. Sì. Ecco, lo era per qui. Ecco, capperice la password. Vuoi vedere che io amo Alex? Qui c'è una scatola. Vediamo cosa c'è detto. Ma questi sono i vestiti che indossa Tina. E quella è la sua parrucca. Oh, caspita. È lei che si finge di essere un'altra ragazza. Oh, ma sento svenire. Mamma, sta tornando. Devo rimettere tutto dentro. Leggo bene. Danny, ma che ti facevi in camera mia? Io, beh... Ecco. Ah, va bene, non importa. Sono passata in pasticceria e ti ho preso anche questo frullato. Avevano finito i gelati. Ah, ok. Devi un favore? Sì, certo. Finisco di bello dopo. È molto strano che sia in camera mia. Non vorrei avesse scoperto qualcosa. Non è il momento di bere questo frullato buonissimo. Devo capire perché si è inventata Tina. Non so proprio come fare. Caspita, poi però lo pubblicheranno sul giornale. Forse dovrei andare a parlare. Sì. La cosa giusta. Dopo ve l'ho bevuto. Toc, toc, toc. Avanti. Danny, che c'è? Ti devo parlare di una cosa molto importante. Va bene. E così ho deciso di avvisarti prima che lo pubblicheranno sul giornale. Caspita, ti prego non dirlo alla mamma, ad Alex, alle mie amiche, a nessuno. Deve rimanere tra noi tre. Come tra noi tre? Beh, questo look, cioè, quel look me l'ha fatto la parrucchiera. Ma perché te lo sei inventato? Perché volevo spiare Alex e la sua ragazza. Poi però si sono lasciati e... Ma tu hai rifiranzata di lui? Sì. Ma scusa, non potevi tornarlo da Argentina? Beh, mi vergogniamo troppo. Io so che la ami ancora. La password era, ti amo Alex. Hai ragione. Io lo conquisterò da Argentina. E però, riguardo a Tina, non esisterà più. Perché gli ho detto che si trasferirà. Lo sapremo solo noi tre, ok? Va bene? Bene. E ora esci. Oh, sì. Fai del tuo meglio. Se vuoi io ti aiuterò. Bene. Spero solo che nessuno venga mai a saperlo. Bene ragazzi, il nostro episodio finisce qui. Diceci come si dovrebbe comportare Argentina e lui lo dovrebbe dire a qualcuno. E secondo voi, il giornalino verrà a saperlo? Si scoprirà tutto nel prossimo episodio. Quindi non mancate. Alla prossima! Scriviti e mettila. Dì, 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 dì.